In questo periodo, soprattutto il periodo di maggio, ci sono stati molti incendi, anche qui in Capitanata, per quanto riguarda il grano e altre colture. Si stima che circa il 60% proviene dalla mano della criminalità organizzata e il 40% viene dalla negligenza dei residenti. La mano della criminalità organizzata da un lato e l'incuria e la negligenza della cittadinanza dall'altro rappresentano uno dei mali più devastanti per il territorio di Capitanata e non solo. E un incremento degli incendi pari al 30% rispetto all'anno precedente evidenzia quanto questo pericolo rappresenti oramai una delle emergenze prioritarie del territorio, questo l'appello di Coldiretti. Quest'anno peggio degli altri? Diciamo che il dato dal 2019 al 2020 porta un aumento del 30%, sicuramente questo dato aumenterà nel 2021. Per quanto riguarda le pene per i trasgressori, avete fatto delle proposte e state pensando di fare delle proposte? Sì, come anticipato l'8 luglio alla manifestazione contro i cinghiali dall'assessore Pentassuglia, noi abbiamo già chiesto delle pene certe pesanti per chi è promotore di questi rughi. Però è molto importante la mano dei cittadini per evitare questi rughi e per trovare i colpevoli. Dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile per l'impegno che stanno mettendo in questa battaglia, però dobbiamo aumentare gli uomini e i servizi perché gli incendi stanno aumentando. Il personale è insufficiente? Sì, il personale è sufficiente perché se i rughi aumentano in un anno del 30% sicuramente serve più un altro piano, altri interventi, però comunque vanno ringraziati i vigili e la protezione civile per quello che stanno facendo.